Come in passato, anche quest'anno, l'Associazione Italiana Scompensati Cardiaci ha organizzato un punto di informazione itinerante per diffondere a livello capillare la conoscenza della patologia dello scompenso cardiaco per imparare a riconoscere i sintomi, affrontare l'emergenza e prevenirla. A tutti i pazienti e agli interessati verrà data la possibilità di iscriversi gratuitamente all'Associazione, di ricevere un pieghevole informativo e di eseguire in modo totalmente gratuito alcune valutazioni cliniche riguardanti la patologia. Quest'anno il camper di dimensioni maggiori rispetto agli anni passati avrà a bordo anche personale specializzato per svolgere corsi di primo soccorso indispensabili per coloro che assistono un paziente scompensato. Sabato 7 settembre un ambulatorio mobile con a bordo personale medico dell'Istituto Clinico Mediterraneo di Agropoli, afferente all'Associazione Italiana Scompensati Cardiaci, sosterà in piazza Vittorio Veneto ad Agropoli dalle ore 10 alle ore 14 per effettuare una breve anamnesi, misurare i parametri vitali, pressione arteriosa, frequenza cardiaca, saturazione dell'ossigeno, peso, altezza e stato di idratazione corporea mediante valutazione non invasiva della bioimpedenzometria.